Lui questo calazzo è pieno su e questo specchio mi fa ricordare, mi fa rimanere in mente che cosa deve essere un museo, che cosa deve essere questo museo. Innanzitutto questo museo di Fisco è diventato nel tema di eleganza e di bellezza, eleganza e bellezza che appena sono dei valori da ricordare con la sua vita quotidiana. Prima, secondo, uno specchio con cui nel tempo si sono riflessi immagini, storie, personaggi, deve scoprire. Deve scoprire è la sabbia verde, perché spesso dimentichiamo, anche noi, in generazione territoriale, dimentichiamo della sua vita quotidiana. Uno specchio quindi in cui la città e il territorio possono riconoscersi, specchiarsi nella loro qualità, tra passato e presente. E infine, uno specchio che permette di vedere dietro importantissimi specchietti, che ci permettono di capire dove stiamo andando, cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo fare. E uno specchio che ci permette di orientare in maniera consapevole le nostre scelte di futuro. Anche in generazione per questo museo. E infine, ancora l'importante fosse, questo museo che come uno specchio, che riflette ma non è mai simile a se stesso, sappia rinnovarsi completamente, continuamente. Quindi, riflettendo quello che succede, riflettendo le necessità e i bisogni, e sapendoli trasformare. E quindi il museo è indirizzabile. E anche ovviamente, che sono fondamentali di questo museo e di cui chiunque fa cultura da un uomo di rapporto. E...